Dante collarino azzurro, Mia collarino nero, Mia sta soccombello, ma è tenace, è molto forte, si può riprendere, Dante continua nei suoi attacchi, Dante continua a morsicare la faccia di Mia, Mia tenta in vano una ripresa, si è già rotta le palle, continua, continua, Dante dai piccola lei, dai. Ultimamente hanno ripreso a fare questi giochi per stabilire chi è il più forte, oggi era Mia che aveva la meglio, adesso è un po' stanca e quindi Dante se ne sta approfittando, ma non è vero, sono in grado di regolarsi da soli nel gioco e quindi, Mia una sferrata di pugnetti, eh avanti, dai Mia che ricomincia, Dantino affonda i dentini sulla guancia, ma non affondo ben niente Dantino, con bastimento all'ultimo morsio, Basta, è finita, Il combattimento continua, complice la freddura di Giulio, Dantino non si dà per vinto, Ecco qua, finito anche il gioco, salutate tutti, eccoci ancora e vai, Ciao a tutti gli amici di Fine Frenchy da Dante e Mia che approfittando del leggero venticello serale ne approfittano per giocarsi un po' tra di loro, Eccoli, Dante 14 kg contro Mia 10 kg, scontro un po' impari, però lei ha un caratterino, mica niente da ridere, si sa farsi rispettare, ciao!